Il maxi sequestro di questa mattina di una villa a Viterbo, un aderente del clan Fasciani che ha dominato con le proprie scorribande malavitose tutto il litorale facendo capo a Ostia è uno di quei clan insieme agli Spada che hanno sicuramente terrorizzato tanta gente con la loro attività qui vedete la polizia e la guardia di finanza che entra in questa villa a Viterbo proprietà di Riccardo Radicchi di Monterosi, uomo pregiudicato da controllo da tempo operati legati allo spaccio di suoi facenti lui nulla tenente per quanto riguarda la dichiarazione di redditi aveva accumulato una ricchezza che gli fruttava circa 600 mila euro di annui di valore qui vedete la collezione di Rolex, sequestrata la collezione di Mercedes che sono stati trovati nella villa questa è la situazione, un tinore di vita troppo alto, ha detto il comandante provinciale della guardia di finanza di Viterbo Andrea Percorari, l'uomo era in collegamento con i calabresi Vadalà, i Casamonica, i fasciani di Ostia essendo lo zio della moglie, l'uomo di fiducia del clan ed è stata sequestrata Grazie a tutti!